Nella giornata di ieri è stato rilasciato il codice per ottenere l'ultimo Pikachu di Ash che arriva direttamente dalla serie Esplorazioni Pokémon. In questo video vi mostreremo tutti i codici pubblicati per poter riscattarli subito su Pokémon Spade Scudo. Per il Pikachu Berretto originale, quindi quello di Kanto, il codice è questo. Per il Pikachu Berretto Compagni, quindi quello del ventesimo film, invece, è questo. Per il Pikachu Berretto di Owen abbiamo il seguente. Per il Pikachu Berretto di Sinnoh, questo. Per il Pikachu Berretto di Unima, questo. Ancora, per il Pikachu Berretto di Kalus, questo è il codice. Per il Pikachu Berretto Lola, il codice è... E per finire, col Pikachu Berretto Mondo, c'è il codice che vedete in sovraimpressione. Per riscattare i Pikachu di Ash non dovrete fare altro che giocare a Pokémon Spade Scudo e seguire i seguenti passaggi. Avviare Pokémon Spade o Pokémon Scudo, aprire il menu principale con il pulsante X e selezionare Dono Segreto, selezionare Ricevi un Dono Segreto, selezionare tramite codice seriale o password per collegarti a internet e inserire la password. Attendere mentre avviene il trasferimento del tuo dono e assicurarsi di aver salvato il gioco. Per questa PNN News è tutto, vi ringrazio per averla vista. Ciao allenatori! Grazie!